Bibbia, parola di Yahweh, puntata 7. Enoch e le astronavi. A pagina 43, Genesi 3, 17, si legge. Ora Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch. A pagina 45, Genesi 5, 24, si legge. Enoch camminò con Elohim, poi scomparve perché Elohim l'aveva preso. In realtà la traduzione corretta di questi versi dall'ebraico è Enoch andava avanti e indietro con Elohim, avanti e indietro cioè con i loro carri volanti. A pagina 1496, Siracide 44, 16, leggiamo. Enoch piacque a Yahweh e fu rapito, esempio istruttivo per tutte le generazioni. Alla relativa nota 44, 16, si nomina il Libro dei segreti di Enoch. Pagina 1507, Siracide 49, 14. Nessuno sulla terra fu creato uguale a Enoch, difatti egli fu assunto dalla terra. A pagina 2578, sempre della Bibbia di Gerusalemme, Nuovo Testamento, lettera agli ebrei 11, 5, si legge. Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più, perché Elohim lo aveva portato via. Prima infatti di essere trasportato via, ricevette le testimonianze di essere stato gradito a Elohim. Quindi la Bibbia definisce Enoch come il migliore di tutti, talmente gradito agli Elohim che andava avanti e indietro con loro, e a tal punto che se lo portarono via con loro per preservarlo dalla morte, probabilmente allungandogli la vita con interventi di ingegneria genetica, o portandolo sul pianeta di Miru dove, come spiegano i testi sumeri, per via dell'orbita di 3600 anni intorno al sole, la vita si allungava di molto. Infatti gli Elohim o Annunaki, che sono i corrispondenti dei testi sumeri, che vivevano sul Nibiru, spiegano i testi sumeri, avevano una vita molto più lunga degli stessi Annunaki che si erano trasferiti sulla terra. Insomma Enoch, pur essendo riconosciuto il migliore di tutti nella Bibbia stessa, viene invece poi rinnegato perché il suo libro è stato dichiarato come apocrifo e quindi non canonico, escludendolo dai testi biblici. Chiarisco che il termine apocrifo non significa falso come molti pensano, ma ben sì, nascosto. Sarà forse perché il libro parla chiaramente di dischi volanti? Ricordo che per il Vecchio Testamento anche il profeta Elia salì nel turbine verso il cielo con un carro di fuoco. Il libro dei Vigilanti di Enoch, almeno fino al VI secolo d.C., era presente nella Genesi, ma poi fu ritenuto apocrifo e tolto dalla Bibbia, anche se attualmente accettato come canonico dalla Chiesa Copta, antico filone di confessione cristiana, ed è menzionato anche dai padri della Chiesa Origene, Tertulliano, Ireneo, Giustino, Ippolito, Taziano, Atenagora, Cipriano, Cassiano, Clemente, Alessandrino. Nel libro di Enoch, specie nella sezione denominata il libro dei Vigilanti, sono descritti con dovizia di particolari gli avvenimenti accennati in poche righe in Genesi 6, 1, 4, i figli degli dèi che si univano con le figlie degli uomini. Il libro di Enoch si divide in sei sezioni, il libro dei Vigilanti, il libro delle parabole, il libro dell'astronomia, il libro dei sogni, lettera di Enoch e Apocalisse di Noè. Nel libro dei Vigilanti, il più antico, si narrano le vicende di misteriosi esseri celesti, dei loro rapporti con l'umanità e dei loro oggetti volanti. Tra l'altro, nel libro di Enoch c'è scritto che quando nasce Noè, suo padre Lamech vede la pelle bianchissima, i capelli rossi e dice ma questo non è figlio mio, è figlio di quelli là. In sostanza Noè, probabilmente fu un ulteriore impianto genetico effettuato dagli Elohim per ristabilire la purezza genetica. Altro non morto, come Enoch e Delia, è Mosè. La Bibbia dice che Mosè, quando va a morire, era in perfetta salute e decide lui quando andare a morire. Va nella valle di Moab, accompagnato dai fedelissimi Giosuè ed Eleazzaro e arriva la solita nube che se lo porta via. La Bibbia indica con nube gli oggetti volanti con cui si spostavano gli Elohim, così come era successo ad Elia ed Enoch. La Bibbia dice che nessuno ancora oggi sa dove sia la tomba di Mosè. Delle storie dei patriarchi biblici non parla solo la Bibbia, ma anche storici del tempo come Giuseppe Flavio, che nell'antichità giudai che racconta che Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se ne fosse andato con le divinità e quindi tentasse di seguirlo. Curiosa combinazione che nel Nuovo Testamento, quando Gesù vive la vicenda della trasfigurazione sul monte, gli compaiono Elia e Mosè, ossia due non morti, due che se ne sono andati via con gli Elohim. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.